buonasera a tutti vi ricordo l'appuntamento per questa sera 21 e 40 131 e volevo anche scusarmi anticipatamente perché a causa delle cattive condizioni atmosferiche non siamo riusciti a recuperare nessun ospite se non giuseppe freda coach è voluto venire grazie però insomma va bene caro giovanni parla da solo la trasmissione bravo complimenti questi coach sono sempre così permalosi fredda mamma mia vabbè ci vediamo alle 21 e 40 se non sarà ferita sarà un altro va bene lo stesso